Presidente, la regione Liguria ha una marcia in più sul PNRR oppure l'Atita? No, la regione Liguria fa quello che deve sul PNRR, sta investendo moltissimo e su tutti i settori di competenza del PNRR, dalle grandi infrastrutture ferroviarie al porto, alla rete degli ospedali di comunità e delle case di comunità. Stiamo facendo il nostro lavoro, non è regione Liguria che rallenterà il PNRR, anzi se ci fossero più soldi su dissesto idrogeologico, su depurazione delle acque, su ciclo dei rifiuti saremo pronti ad utilizzarla come abbiamo scritto a fitto già da alcune settimane. Aspettiamo la rinegoziazione europea, aspettiamo i criteri di Repower Europa e poi vedremo ovviamente se si potrà fare più di quello che stiamo facendo. Quello che abbiamo lo stiamo utilizzando. Moderni criteri di investimento dei grandi fondi che mettono il green sempre di più tra i requisiti.